Un camion finito fuoristrada ha terminato la sua corsa contro il muro di un'abitazione. È successo in via Casalveghe, nel comune di Zimella, in provincia di Verona. Ferito in maniera lieve l'autista. Un forte botto ha spaventato le due persone che si trovavano all'interno dell'abitazione. Tanto spavento, ma per fortuna non sono rimasti feriti. A lavoro la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Caldiero e l'autogru del comando di Padova coordinati dal funzionario di guardia. Hanno messo in sicurezza il mezzo pesante dall'abitazione e messo in sicurezza l'edificio. L'autista è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di San Bonifacio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi del sinistro e gestito la viabilità.